Un saluto a tutti e a tutti, sono Maria Rita Mancaniello e nel corso mi occuperò di affrontare quei processi di trasformazione in atto nel cervello degli adolescenti e dei bambini e delle bambine per vedere poi nella scuola cosa possiamo fare per migliorare i processi all'apprendimento, le motivazioni, proprio perché loro vivono in una realtà virtuale, nella realtà aumentata, nel metaverso e questi aspetti della quotidianità richiedono poi dalla scuola un'attenzione specifica. Io sono Francesco Lavanga e insieme vedremo come la dimensione dello sviluppo e dell'apprendimento nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza si intersecano con lo sviluppo digitale e tecnologico. Vedremo insieme le metodologie didattiche, strumenti e strategie per fare didattica all'interno degli ambienti virtuali, faremo delle esperienze insieme per provare a cogliere il punto di vista delle nuove generazioni e provare ad immergerci anche noi in queste nuove realtà virtuali.